Senatore Crosio, brutte novità per i frontalieri. Che cosa è successo? Beh, un'altra tegola. In tempi non sospetti abbiamo dichiarato che l'accordo fatto da questo governo con la Confederazione Elvetica non era un accordo che andava bene, in quanto i frontalieri probabilmente pagheranno più tasse. Ma questo lo vedremo in seguito. La tegola che oggi arriva tra capo e collo è il fatto che i nostri lavoratori frontalieri, pare, stiamo facendo delle opportune verifiche, ma crediamo che purtroppo sia così, dovranno pagare le spese mediche. E questo ci preoccupa molto. Abbiamo fatto subito un'interrogazione perché già sapevamo che l'accordo non andava bene, avrebbero pagato di più, ma che ci fosse stato anche questo problema per quanto riguarda il servizio sanitario ci lascia veramente allibiti. Noi come Lega Nord vigiliamo sempre sulla questione dei frontalieri e anche in modo particolare su questa qui. Abbiamo predisposto un'interrogazione subito al Ministro dell'Economia e al Ministro della Salute. Siamo molto preoccupati perché vuol dire fregarsene dei frontalieri, fare gli accordi internazionali alla faccia di chi lavora.